Parla fanazzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Giovanni Scotto, giornalista ed esperto di mercato del Roma, ha commentato sul suo profilo Twitter la trattativa tra Napoli e Sampdoria per Bartos Berezinski, terzino dei blucerchiati che dovrebbe approdare presto alla corte di Luciano Spalletti. Per mettersi alle spalle di Di Lorenzo, Berezinski titolare nella partita della Sampdoria contro il Sassuolo. Nei prossimi giorni si trasferirà a Napoli, ma probabilmente si aspetterà lo scontro diretto tra Napoli e Sampdi di domenica pomeriggio a Marassi. Anche la redazione di Sky Sport, attraverso l'inviato a Sassuolo, Re, ha messo in evidenza il buon esito della trattativa, confermando il passaggio dell'esterno destro alla corte di Luciano Spalletti, servono solo gli ultimissimi dettagli, vi. Diciamo che la prossima partita, Samp-Napoli, probabilmente la vedrà già con la maglia azzurra del Napoli. Ma gioca oggi, cederà la fascia ad Audero e scende in campo in difesa per aiutare nell'ultima gara la Sampdoria. Ha concluso il giornalista di Sky. Ehi, fan di azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.